Buonasera a tutti, benvenuti. Sono Leonardo D'Agostini, regista del Campione. Che cosa insegna? Letteratura, filosofia e storia. Un esame a settimana. Se non passa, non gioca. Lei vuole che un calciatore studi per prendere la maturità. Mi pare una cazzata, eh? Dai. Non me tocca mai. Il Campione è il mio primo film e nella mia intenzione almeno c'era... e c'è l'idea di fare quel tipo di racconto e di cinema che, prima di tutto, mi piace vedere come spettatore. Cioè, un cinema di intrattenimento, ma con un'anima, insomma, con un minimo di profondità. Poi, se si è riuscita in questo mio proposito, ecco, questo sta a voi dirlo. Di che c'hai paura, Cri? Di rimanere solo. E intanto vi auguro buona visione.